Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Clash of Clans Finalmente posso dire di essere tornato ragazzi perchè ho finalmente ultimato lo stage o stagio come cavolo si chiama non lo so non mi interessa più veramente basta sono stati due mesi dove veramente ho fatto fatica a portarvi video ma spero che da oggi potrò ricominciare a portarvi tante idee che in questi due mesi non sono riuscito a portarvi ad ogni modo ragazzi come vedete la formazione del mio villaggio rispetto al video per l'accidente è completamente stravolta perchè? perchè hanno aggiunto una difesa che logicamente ha richiesto il totale cambio di formazione stiamo parlando del volano di questa cosa perchè non voglio definirla una difesa ancora parleremo poi dopo per adesso ragazzi rimetiamoci a vedere le novità che ci sono perchè sono novità non tantissime novità ma sono novità molto importanti che riguardano villaggio allora partiamo subito col vedere l'arco x al 2 in potenziamento infatti il primo arco x dopo essere arrivato al 2 l'ho subito messo a fare al 3 infatti come vedete diventerà così nero con tutti questi spuntoni molto figo e sarà anche molto forte perchè guardate raggiungerà quasi il massimo della sua forza impiegherà però 14 giorni e costerà 7 milioni di oro questo è solo il primo quindi ce ne sarà ancora un altro a portare su e poi ho portato una trivella una trivella scusate una tesla al 6 e un'altra che è in potenziamento al 6 quindi ben due tesla che stanno passando dal 5 al 6 e poi abbiamo la prima trivella nera maxata infatti qua beh ancora 5 perchè è in potenziamento ma tra 7 giorni arriverà al livello 6 e sarà maxata e dopo di lei ci sarà logicamente la sua sorella qua e una volta terminata quest'ultima trivella avrò maxato tutte le costruzioni che si comprano con l'elisir quindi io sto escludendo logicamente le ultime 1, 2, 3 truppe che ho nel laboratorio perchè ho ancora 3 truppe nel laboratorio e 2 pozioni se vogliamo quindi ho ancora 5 cose da potenziare con l'elisir nel laboratorio e una costruzione da potenziare quindi veramente dopo 5 mesi che abbiamo fatto il th9 siamo quasi pronti a maxare una parte di quest'ultimo ad ogni modo queste non sono tutte le novità perchè abbiamo altre novità tra cui un cazzo scusate fail assurdo non ci sono altre novità? no mi ricordo che c'era qualcosa vabbè se mi viene in mente ragazzi poi ve lo dico però così guardate ci sono veramente... vabbè il vola no ragazzi cavolo ma come faccio a dimenticare il proprio la cosa principale di questo video il vola no infatti l'abbiamo già costruito e ora lo mettiamo in potenziamento al 2 proprio perchè abbiamo soldi a buttare via lo mettiamo in potenziamento al 2 ok era... oddio ho picchiato il microfono ragazzi scusate allora parliamo di questo vola no allora questo vola no è stato aggiunto nell'aggiornamento uscito ieri quindi non so quando uscirà questo video ma l'aggiornamento di cui sto parlando è uscito il 30 aprile e questo vola no è una difesa aerea che però non infligge danni ai nemici si limita a spingerli via adesso mentre vi parlo probabilmente vi metterò dei replay presi da altri canali che hanno avuto questo aggiornamento in anticipo che mostrano come questa difesa agisca sulle truppe aeree colpisce tutte le truppe aeree quindi sgherri, mastini, draghi e mongolfiere e praticamente le spinge via è una specie di lanciapeti e le spinge via andando dopo 5 secondi che era uscito l'aggiornamento su il migliore giocatore al mondo e cliccando sul primo giocatore al mondo ho subito potuto vedere come questa difesa fosse già maxata e quindi adesso possiamo andare a vedere già a livello 6 com'è allora vediamo un pochettino dove cazzo l'ha già messa a qualche parte oddio non trovo il vola no che fine ha fatto il vola no ragazzi questo tizio non c'ha il vola no ah eccolo qua eccolo qua perfetto è una merda cioè ha solo 1000 di vita quindi più o meno come un muro all'otto se non sbaglio e ha 3.6 di diciamo effetto forza di assalto non è una forza di assalto non si può definire questa una forza di assalto per favore ha 3.6 di aria che fa 3.6 di aria si ragazzi perché è un lanciapeti ve l'ho detto allora torniamo nel nostro villaggio perché veramente è una cosa clamorosa questa non mi piace molto questa difesa devo essere sincero perché perché ha una cosa cioè non ha una cosa che tutte le altre difese di clash of clans hanno ovvero il raggio d'azione cioè prendete qualsiasi difesa qualsiasi un mortaio la torre dell'arciere nel cannone qualunque difesa avrà un raggio quindi in qualunque direzione tu lo attacchi questa difesa potrà sparare il volanò ha un raggio di 90 gradi questo vuol dire che può occupare un quarto di quello che occupa una difesa normale quindi questo cosa vuol dire che dobbiamo posizionarlo in un punto dove non vogliamo essere attaccati ma dobbiamo calcolare che dagli altri 3 punti saremo vulnerabili quindi dopo aver veramente pensato per delle ore che cosa ho raggiunto come conclusione allora questo volano spinge no volano 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 perché quel accento è un mistero veramente allora questo volano spinge via le truppe ok fin qua ci siamo spingere via le truppe vuol dire poterle spingere lontano dalle difese o dai depositi o da dove comunque spingere lontano in un'altra direzione oppure spingerle verso delle difese cioè mi spiego meglio può spingere le difese come abbiamo visto nel replay prima cioè cercare di non farle avvicinare ma dopo averci pensato un po' puoi anche spingere una truppa in un punto dove vuoi che tu vada ad esempio in questo caso l'ho settato in modo che le truppe vengano spinte nel raggio delle archi X ma attenzione come potete vedere andando verso in questo caso sinistra le truppe che attaccheranno gli archi X non riusciranno a colpirli perché avranno questo getto d'aria che praticamente assorbe entrambi gli archi X in pratica mi sono scervellato mezz'ora per posizionarla in un modo dove le difese aeree non importa come sono messe cioè ho semplicemente messo la difesa aerea al sette vicino per poterlo aiutare ma l'importante è che gli archi X rimangano difesi quindi calcolando che questa difesa si può usare solo in attacchi aerei quindi sicuramente sarà inutile con go wipe o altre tecniche di terra se qualcuno mi attacca con le truppe aeree o mi attacca da questo lato che sarà la cosa più ovvia ma troverà la difesa aerea al sette e gli archi X che lo colpiranno oppure mi attacca da questo lato dove troverà le difese aeree più basse e riuscirà anche ad attivare il castello del clan ma avrà gli archi X che li sparano e questo volano che tiene le sue truppe lontano dai miei archi X questa cosa è una mia idea non l'ho ancora potuto sperimentare perché nessuno mi ha attaccato con mongolfiere sgherri o comunque truppe del genere per ora ma spero veramente di poterlo provare presto anche se penso che per un paio di giorni il volano sarà in potenziamento ad ogni modo detto questo il volano non è stata l'unica novità di questo aggiornamento andando su impostazioni e cliccando novità possiamo vedere che ci sono altre novità tra cui il volano dove vengono spiegate alcune cose tra l'altro qua dice che il volano si potrà fare da municipio livello 6 in su se non sbaglio il costo subito è di 500.000 per farlo al 2 è di 750.000 poi per farlo al 3 è di 1.200.000 per farlo al 4 è 2.500.000 e poi gli altri sinceramente non lo so so che il livello massimo costa poco meno di una difesa aerea all'8 quindi 7.400.000 mi sembra è un furto me ne rendo conto ad ogni modo non so ancora dirvi delle novità su questo volano io personalmente continuerò ad attaccare con mongolfiere sgherri se io troverò qualche villaggio con un volano ben piazzato lo attaccherò vedrò se veramente ovviamente avrò delle difficoltà ma non penso perché alla fine ragazzi uno che ha il volano piazzato come me basta attaccarlo dal lato opposto cioè si può cercare di usare il volano per costringere il nemico ad attaccarti da un lato ma veramente non ci vedo tutta questa utilità devo essere sincero però ragazzi chi lo sa magari si rivelerà con delle tecniche che magari vedremo dai youtuber americani o comunque qualcuno che sicuramente lo saprà anche studiare meglio di me delle cose anche particolari ad ogni modo tra le altre novità vediamo la possibilità di avere delle specie di segnalibri per mettere tra i preferiti almeno 30 clan quindi voi avrete il vostro clan in cui siete madonna ho picchiato il nuovo microfono scusate avrete 30 possibili clan da mettere nelle ricerche rapide diciamo e inoltre in guerra una cosa che sinceramente non ho ancora provato ma poi vedremo si potrà prima di attaccare un villaggio vedere che truppe si hanno che truppe si hanno nel castello come sono messi gli eroi e che pozione si hanno quindi non si rischierà di attaccare e poi mentre state schiavando le truppe dire oh cazzo ho dimenticato una pozione è una bella novità questa è stata sinceramente e a parte questo c'è da segnalare una piccola cosa poi con questo vi saluto ovvero è stata modificata la texture di parecchie mura forse addirittura tutte e per quanto riguarda quelle che ho io le mura al 7 sono più pungenti diciamo ci hanno fatto un po' più di spuntoni alla base e le mura all'8 in teschio sono tipo sporche non sono più teschi bianchi molto lucidi e puliti ma sono teschi sporchi non so non so come definirlo guardate voi personalmente le preferisco così però c'è da dire che appena era stata messa questa nuova texture per le mura era stata data anche la possibilità di potenziare tutte le mura anche con l'elisir i più furbi tra cui io no perché dovevo fare la trivella hanno deciso di potenziare subito un bel po' di mura con l'elisir e si sono portati avanti con le mura io purtroppo non l'ho fatto dopo poche ore hanno tolto questa possibilità perché era un bug e quindi niente ragazzi l'hanno tolta e adesso siamo di nuovo nella situazione di prima dove le mura costano veramente veramente troppo e l'unica cosa positiva e con questo poi ragazzi vi saluto è che aggiungere una difesa aerea seppur inutile seppur scarsa seppur strana perché comunque non si sa secondo me si potrà anche rivelare forte alla fine questa difesa e sono sicuro che diminuirà gli attacchi in mongolfiere sgherri o mastini eccetera eccetera e aumenterà le tecniche in go wipe quindi i muri se uno ce li ha tutti quanti a livelli alti non dovrà vedere la gente che lo attacca con le mongolfiere che si salta i muri ma dovrà vedere degli attacchi dove la gente fatica a sfondare queste mura e basta ragazzi con questo vi ho detto tutto prossimi aggiornamenti lo ripeto golem al 2 manca veramente pochissimo manca veramente pochissimo anche qua io spero che il video vi sia piaciuto ragazzi spero che siete contenti che io sia tornato aspettatevi delle nuove serie sul canale torneremo anche con un mondo di cubi che mi dispiace veramente tantissimo di non aver più potuto portare in questo periodo ma richiede veramente tanto tempo per la preparazione e quindi veniva veramente una cosa impossibile ragazzi detto questo io vi saluto vi ringrazio per tutti i mi piaci i commenti e soprattutto per la pazienza che avete avuto in questo periodo ad aspettarmi ragazzi niente io spero che vi sia piaciuto ancora una volta vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti